Buongiorno della campagna! Oggi ti dico tutto su come seminare i fagiolini. Intanto come vedrai se hai un occhio un pochino attento sono tra le mie piantine di pomodoro che tra pochissimi giorni devo piantare. Infatti seguimi, iscriviti al canale se Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!